buongiorno a tutti oggi siamo a novaggio per presentarvi questo due e mezzo locali siamo al primo piano di questo stabile entrando nell'appartamento veniamo accolti da quest'area del soggiorno vediamo subito che sulla sinistra abbiamo una cucina veramente bella composta di frigorifero congelatore lavabo lavastoviglie forno e piano cottura a induzione procedendo sulla destra abbiamo questa apertura che ci introdurrà nella zona notte cosa molto caratteristica di questo appartamento sono queste due aperture che ci permettono l'accesso al bagno sulla sinistra mentre su questa parte destra un piccolo deposito sulla parte sinistra abbiamo il bagno come appena anticipato troviamo quindi un bel lavabo uno specchio pc e sulla parte destra la doccia ecco un'altra panoramica della zona notte col servizio ritorniamo ora nella zona giorno per avere una seconda panoramica che se vi è piaciuta questa soluzione e volete avere maggiori informazioni contattateci allo 00 41 91 921 24 28 ti affitto dietro